Ciao ragazzi oggi parliamo di Dermasilant dopo aver visto il video tecnico scientifico postato la settimana scorsa in inglese dove ho avuto molti apprezzamenti da parte dei deteri professionisti che sono rimasti stupiti delle prove tecniche e della professionalità delle nostre comparazioni ho voluto fare un video in italiano e sintetizzarlo in 10 minuti fondamentali Dermasilant è un sigillante nato per evitare il trasferimento del colore questo era uno dei miei focus principali quando abbiamo dato l'obiettivo ai nostri chimici però non mi aspettavo poi che avesse anche una resistenza così dell'abrasione e quindi oggi parliamo un po' di questo quindi per provare la resistenza al trasferimento color c'è una macchina una macchina in cui viene messo questi tamponi questi tamponi qui sopra un peso di un chilo e poi vengono fatti strisciati dopo aver applicato il protettivo vedete qui dopo circa 500 volte che viene sfrigato con questa macchina che potete vedere nel video vedete bene il trasferimento del colore sul tampone in cotone quindi qui si riesce a vedere già quanto il cotone si sia sporcato e quindi ci sia stato un trasferimento del colore ma nel medesimo test viene fatto anche un test in cui il tampone, questo cotone, è imbevuto di alcol quindi una sostanza alcolica, un detergente per vedere la resistenza ai lavaggi questi test che abbiamo fatto non sono stati inventati da noi ma sono test mondiali accettati da tutti i produttori di pelle e dai casi automobilistiche quindi sono test standard quindi qui vediamo che Dermasylient risulta veramente una barriera contro il trasferimento del colore è una grandissima protezione contro gli agenti chimici nell'altro test che vedete nel video si vede invece la prova di abrasione c'è una macchina dove si vengono messi questi dischetti di pelle dove viene inserito e qui ci sono due dischi abrasivi che strofinano quindi simulano lo sfregamento tra i nostri vestiti, tra noi e il sedile del nostro auto o del nostro divano poi alla fine vengono pesati prima del test e dopo il test in base al peso che rimane perché passando con questo disco abrasivo si perde microgrammi di pelle dal peso si controlla quanto il prodotto è resistente all'abrasione e anche questo test Dermasylient è il risultato vincente sui competitor poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un altro test il test del curing perché? Cioè Dermasylient ha una tecnologia nuova che si chiama S.P.C. Self-fast curing cioè la capacità del prodotto di chiudere il suo layer, quindi il suo primo strato di sigillante nelle prime, non ore, nei primi minuti, mezz'ora in mezz'ora noi il 70% della chiusura del prodotto l'abbiamo in mezz'ora questo perché l'abbiamo voluto? perché c'è un problema in Italia, soprattutto in Italia quello della temperatura quando tu apri un sigillante sotto la temperatura di 18 gradi il curing fa fatica a formarsi tant'è vero che molte dei tailor che lavorano in ambienti freddi quindi intorno ai 15-16 gradi in inverno perché non accendono il riscaldamento per motivi di costa quindi preferiscono mettere un giubbino in più, un maglione in più hanno questa difficoltà, quindi una volta applicato il sigillante si mettono a fare il phon ai sedili per scaldare, per attivare velocemente il curing del produttivo pelle perché se non succede, se non chiudono, succede quello che è successo in questo test dove noi abbiamo testato il prodotto prima delle 24 ore e l'abbiamo testato contro Derma qui abbiamo Dermasina che è applicato dopo un'ora e un concorrente dopo un'ora vedete la differenza? vedete qui? quindi addirittura abbiamo subito una maggiore abrasività quindi questo è molto importante perché cosa succede? che quando lavoriamo in temperature basse negli studi ok, ma anche il privato che in inverno da ottobre, da novembre a febbraio si fa la sua macchina, lava la sua macchina il pomeriggio e il sabato poi applica il sealant alle 5 del pomeriggio mette la macchina in garage non è che in garage ci sia la temperatura di Dubai e anche lì, e tutto l'inverno non è che crescerà quindi saranno sempre intorno ai 15-18 gradi quindi il sirena farà sempre fatica ad aderire a meno che non ti metti col phon ad asciugare la cosa e quando poi ti lamenterai del fatto che il sigillante non ha fatto il suo lavoro le case produttivici dicono non hai rispettato i parametri invece noi cosa abbiamo detto? c'è questo problema, dobbiamo risolvere questa è una cosa innovativa la capacità di Labo Cosmetica di osservare le problematiche che c'è sul mercato e di risolverle questa è la nostra forza un'altra capacità che ha Dermasilant è di lasciare una finitura della pelle fantastica nei test che abbiamo fatto abbiamo confrontato anche qualche coating il quale purtroppo mi lasciava, quasi dei tre provati mi lasciava un po' la pelle un po' croccante diciamo così, cambiava la finitura non la lasciava morbida è anche vero che questa cosa si nota soprattutto sui pezzi di pelle non montati sul sedile quando sono ormai tutti tesi si fa fatica a notarla ma se lo mettete su una pelle morbida come questa 40x40 applicate il coating su metà tipo il 50x50 si nota subito la differenza di morbidezza e quindi secondo me un protettivo che non mantiene né la finitura ma soprattutto la morbidezza della pelle secondo me io non la metterei mai sulla mia macchina e quindi ecco perché abbiamo scartato i coating nel processo di test secondo me è così la quarta cosa, la quinta cosa perché ce ne sono tante adesso ho perso il conto è il trattamento quaterniger layer che è una tecnologia che abbiamo solo noi ed è un coating antibatterico non nel senso che come tutti i dettagenti sanitizzanti o presidio medico chirurgico cioè che uccide il batterio la carica batterica che ha all'interno dell'auto ma una volta entrati in macchina se non sei vestito da CSI Parma cioè vestito da scapandro tu ricominci a contaminare l'auto noi abbiamo fatto qualcosa di diverso cioè qualcosa che tu puoi applicare sulla plastica sul tappettino applicato anche se vuoi anche sul sedile per evitare la formazione di batteri e di muffe ha qualcosa di spettacolare perché non è il primo prodotto che lavora a contatto con la materia contaminata ma crea un layer dove i batteri arrivano e si schiantano e muoiono lì un po' come la carta moschicita vi ricordate la carta moschicita della nonna quando eravamo a casa io me la ricordo avevo una casa vivevo in i miei nonni hanno una fattoria nella zona Mantova e avevo questa bellissima carta moschicita dove arrivano le mosche e si morivano attaccate alla carta lo stesso funziona il sistema di questo quaternario layer noi lo applichiamo sulla superficie e i batteri vanno a morire su questa superficie qui abbiamo fatto un esempio semplice quello del formaggio vi chiedo di andarlo a vedere sul video intero dove si vede che abbiamo messo un pezzettino di pelle trattato con 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 l'abbiamo inserito in un vasetto di vetro e all'interno ci abbiamo messo un pezzettino di formaggio e in un altro basetto abbiamo messo un pezzettino di formaggio senza nessun trattamento sulla pelle quindi non abbiamo spruzzato il prodotto sul formaggio l'abbiamo messo a contatto della pelle vicino al formaggio qui si vede qui vedete possiamo vedere cosa succede dopo due tre giorni e si vede già delle formazioni di muffe per quanto riguarda il formaggio il vetro dove c'era il formaggio senza nessun pezzettino di pelle con dentro il prodotto derma sealant e si vede subito la differenza guardate già qua ma quello vi chiedo di guardare bene durante il video intero di guardare anche il vetro come si contamina cioè tutto l'ambiente nella parte dove non c'è stato trattato si contamina anche il vetro nella parte dove c'è il derma sealant il vetro rimane pulito quindi questo dà una grandissima idea di che capacità di antibatteri che ha questo prodotto quindi può essere usato soprattutto non solo per chi soffre di allergie e altro ma soprattutto anche nelle macchine storiche che vengono messe nei garage che hanno problemi di muffa oppure le macchine alluvionate o sicuramente questa materia prima troverà grande risultato nella nautica quando noi tiriamo su il giubbino salvagente dal gavone del gommone o della barca li troviamo sempre con formazione di muffa spruzzando questo prodotto nel gavone non sul giubbino cioè non occorre non avremo più questa formazione di batterica di muffa è una cosa straordinaria questo è impossibile è una cosa incredibile dove siamo veramente orgogliosi chiudo dicendo tutto questo nella tecnologia di mafra guarda che roba tutto questo deve rispettare comunque una cosa la facilità d'uso perché tu puoi fare il prodotto più bello più tecnico del mondo ma se ci vuole l'ingegnere nucleare per applicarlo hai fallito quindi noi sappiamo di queste cose quindi abbiamo reso un prodotto così semplice che basta solo spruzzarlo sul pad in microfibra e applicarlo direttamente sul sedile in pelle dopo naturalmente prima di averlo lavato naturalmente con derma questo layer che abbiamo visto questo layer di quaternario può essere rilavato quindi il prodotto visto che è resistenza al chimico e anche il layer antimicotico è resistente al chimico può fare il lavaggio di mantenimento con derma cleaner una volta al mese vi dico solo una cosa che i nostri competitor questi qui che li hanno presi di santa ragione un po' di orgoglio a darle danno un trattamento di resistenza di 4 mesi anche noi l'abbiamo messo 4 mesi ma semplicemente perché ci piace sorprendere più che deludere però sappiate bene che dura molto di più perché ho già dei test 15-20 mila chilometri sui percorsi con il nostro trattamento il profumo è fantastico perché sa di cuoio mi piace molto questo profumo ci abbiamo messo anche questi piccoli dettagli siamo attenti quindi secondo me attualmente questo è un prodotto che può essere considerato alla pari di una prestazione di un coating a un prezzo di un sigillante di IDA sul mercato secondo me è un altro successo di Labo Cosmedica ecco siamo giunti quasi alla chiusura mi ero dato 10 minuti sintetici per chiudere i concetti che erano ben espressi nel video di 20 minuti di fatto con Riccardo e Reghi per dire questo non volevamo presentare Dermasylant come fanno un po' tutti quindi facendo magari qualche foto con qualche bidding spettacolare perché è molto di più non volevamo svalorizzarlo abbiamo voluto fare aprire i nostri laboratori e far vedere quanta ricerca e tecnologia e serietà c'è dentro dentro Labo Cosmetica in un'azienda come Labo Cosmetica e vedete perché con prodotti come questo dove occorre tanto tempo vedere la qualità se fa il suo proprio lavoro come lo è un olio motore lo vedi dopo 400.000 km quando apri il motore vedi se l'olio che hai usato sempre usato era di buona qualità lo stesso con Dermasylant quindi molti competitor ne approfittano del fatto che nessuno ha la pazienza di controllare la vita del proprio sedile e quindi se ne approfitta a volte con prodotti non a altezza del loro marchio con Dermasylant noi abbiamo voluto secondo me avuto la possibilità di far vedere e toccare con mano quanta tecnologia e passione e anche qualche divertimento c'è in questo prodotto se pensate che ci sono aziende che sono già da 20 anni che fanno trattamento per pelle e noi da 4 anni stiamo facendo tirando fuori ogni mese perché ormai con cadenza mensile un best un best must to have la dice lunga di quanto ci stiamo ci stiamo impegnando e di quanto crediamo in questo settore vi aspetto al prossimo al prossimo video dove si parlerà ancora di questa tecnologia self fast curing però questa volta sui coating da iscriviti al canale